Era una luminosa e fredda giornata d'aprile e gli orologi battevano 13 colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte di vetro degli appartamenti Vittoria. Non così in fretta, tuttavia, da impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui. L'ingresso emanava un lezzo di cavolo bollito e di vecchi e logoristoini. A una delle estremità era attaccato un manifesto a colori, troppo grande per poter essere messo all'interno. Vi era raffigurato solo un volto enorme, grande più di un metro. Il volto di un uomo di circa 45 anni, con folti, baffi neri e lineamenti severi ma belli. Winston si diresse verso le scale. Tentare con l'ascensore, infatti, era inutile. Perfino nei giorni migliori funzionava raramente e, al momento, in ossequio alla campagna economica in preparazione della settimana dell'odio, durante le ore diurne l'erogazione della corrente elettrica veniva interrotta. L'appartamento era al settimo piano e Winston, che aveva 39 anni e un'ulcera avaricosa alla caviglia destra, procedeva lentamente, fermandosi di tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell'ascensore, il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti, fatti in modo che, quando vi muovete, gli occhi vi seguono. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta in basso. All'interno dell'appartamento, una voce pastosa leggeva un elenco di cifre che avevano qualcosa a che fare con la produzione di ghisa grezza. La voce proveniva da una placca di metallo oblunga, simile a uno specchio oscurato, incastrata nella parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce si abbassò notevolmente, anche se le parole si potevano ancora distinguere. Il volume dell'apparecchio, si chiamava teleschermo, poteva essere abbassato ma non vi era modo di spegnerlo. Winston si avvicinò alla finestra. Era una figura minuscola, fragile, la magrezza del corpo appena accentuata dalla tuta azzurra che costituiva l'uniforme del partito. Aveva i capelli biondi, il colorito del volto naturalmente sanguigno, la pelle resa ruvida dal sapone grezzo, dalle lamette smussate e dal freddo dell'inverno appena trascorso. Fuori il mondo appariva freddo, perfino attraverso i vetri chiusi della finestra. Giù in strada piccoli murinelli di vento facevano roteare spirali di polvere e di carta straccia, e sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un controvivo, sembrava che non vi fosse colore nelle cose, se si eccettuavano i manifesti incollati per ogni dove. Il volto dei baffi neri guardava fisso da ogni cantone. Ve n'era uno proprio sulla facciata della casa di fronte, il grande fratello vi guarda, diceva la scritta, mentre gli occhi scuri guardavano in fondo a quelli di Winston. Più giù, a livello di strada, un altro manifesto strappato a uno degli angoli sbatteva al vento con ritmo irregolare, coprendo e scoprendo un'unica parola, So Ching. In lontananza un elicottero volava a bassa quota sui tetti, si librava un istante come un moscone, poi sfrecciava via disegnando una curva. Era la pattuglia della polizia che spiava nelle finestre della gente. Ma la pattuglia non aveva molta importanza, solo la psicopolizia contava. Alle spalle di Winston, la voce proveniente dal teleschermo continuava a far fugliare qualcosa a proposito della ghisa grezza e della realizzazione più che completa del nono piano triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva contemporaneamente. Se Winston avesse emesso un suono anche appena appena più forti di un bisbiglio, il teleschermo lo avrebbe captato. Inoltre, finché fosse rimasto nel campo visivo controllato dalla placca metallica, avrebbe potuto essere sia visto che sentito. Naturalmente non era possibile sapere se e quando si era sotto osservazione. Con quale frequenza o con quali sistemi la psicopolizia si inserisse sui cavi dei singoli apparecchi era oggetto di congettura. Si poteva persino presumere che osservasse tutti contemporaneamente. Comunque fosse, si poteva collegare al vostro apparecchio quando voleva. Dovevate vivere, e di fatto vivevate, in virtù di quell'abitudine che diventa istinto, presupponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse ascoltato e qualsiasi movimento che non fosse fatto al buio attentamente scrutato. Winston dava le spalle al teleschermo. Era più sicuro, anche se sapeva bene che perfino una schiena può essere rivelatrice. A un chilometro di distanza, immenso e bianco nel sudicio panorama, si ergeva il Ministero della Verità, il luogo dove lui lavorava. E questa, pensò con un senso di vaga ripugnanza, questa era Londra, la principale città di pista 1, a sua volta la terza provincia più popolosa dell'Oceania. Si sforzò di cavale dalla memoria qualche ricordo dell'infanzia, che gli dicesse se Londra era sempre stata così. C'erano sempre state queste distese di case ottocentesche fatiscenti, con i fianchi sorretti da travi di legno, le finestre rattoppate col cartone, i tetti ricoperti da fogli di lamiera ondulata, i muri dei giardini che pericolavano inclinandosi da tutte le parti. E le aria colpite dalle bombe, dove la polvere d'intonaco molinava nell'aria e le erbacce crescevano disordinatamente su mucchi delle macerie, e i posti dove le bombe avevano creato spazi più ampi, lasciando spuntare colonie di case di legno simili a tanti pollai. Ma era inutile, non riusciva a ricordare. Della sua infanzia non restava che una serie di quadri ben distinti, ma per la gran parte incomprensibili, e privi di uno sfondo contro cui stagliarsi. Il Ministero della Verità, Miniver, in Neolingua, differiva in maniera sorprendente da qualsiasi altro oggetto che la vista potesse discernere. Era un'enorme struttura piramidale di cemento bianco e abbagliante, che si innalzava, terrazza dopo terrazza, fino all'altezza di 300 metri. Da dove si trovava Winston era possibile leggere, ben stampati sulla bianca facciata in eleganti caratteri, i tre slogan del partito. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza.